Se hai a che fare con un genitore che potremmo definire tossico, cioè controllante, manipolante, una persona che sembra sempre che sappia come farti saltare i nervi quando si rapporta con te o quando tu cerchi di porgli dei limiti, ebbene sappi che non c'è un'altra via per gestirli se non quella di appunto mettere dei confini, dei limiti e cercare di farli rispettare. Lo so che loro ti dicono, ma come? In una famiglia? Ma come puoi comportarti così? Io che sono tuo padre, tua madre, che ti voglio tanto bene e tu mi dici che certe cose non devo oltrepassarle, devo stare nei miei ranghi? Non c'è un'altra possibilità. Molto spesso noi non abbiamo il potere di cambiare gli altri, anche un genitore. E allora l'unica cosa che possiamo fare per creare una situazione di maggiore benessere, soprattutto personale, ma anche per la relazione, è quella di stabilire dei limiti e cercare di gestire i nostri genitori tossici e manipolanti. Perché molte volte il loro modo di fare, ci rendiamo conto, non è razionale, è molto irragionevole, è qualcosa di prepotente, a volte anche aggressivo. Ok, hanno i loro motivi, probabilmente avranno subito tutte le loro difficoltà quando sono cresciuti, la loro educazione, l'ambiente. Non è incolpare qualcuno, ma comunque rimane il fatto che è importantissimo gestirli per poter avere un benessere. Perché il rischio vero è che quando non ti senti rispettato, e molte volte può succedere questo, poi crei nel tempo una sacca di risentimento, di aggressività, che va addirittura a peggiorare quello che è il tuo rapporto con loro, nonostante tutto. E quindi a volte non basta avere buona intenzione, non basta essere disponibili, anzi, a volte quello ci espone maggiormente al rischio poi di avere una situazione conflittuale molto forte. E se tu ci pensi, rispetto al rapporto con i propri genitori, soprattutto se poi diventano un po' più anziani, ci sono tutta una serie di regole, morali, che noi ci sentiamo addosso, che a volte ostacolano il nostro tentativo di gestire e rendere più accettabile il rapporto con loro. Alcune potrebbero essere, ad esempio, devi rispettare e onorare i tuoi genitori più anziani di te. E questo si traduce generalmente nel dover subire qualsiasi cosa, quindi non doverti lamentare e se pensi qualcosa di negativo devi comunque ingoiartela, perché se no non sei rispettoso, non li onori abbastanza. Questo non è vero. Secondo, ricordati che nella vita la cosa più importante è la famiglia. È vero, è molto importante, però a volte non c'è solo la famiglia che crea benessere. A volte esistono anche delle famiglie, purtroppo, che creano tossicità. Quindi potresti avere a che fare, in questo caso, con dei genitori tossici e quindi che ti inquinano la tua vita, che ti rendono difficile continuare a vivere in maniera serena. Tre, non contraddirmi, perché le mamme hanno sempre ragione. E io sono la tua mamma e ho sempre ragione. No, non sempre. È possibile, probabilmente molte volte, ma non hai sempre ragione o soprattutto non ce l'hai solo perché sei mia madre, perché quello non è una garanzia di dire solo cose giuste o fare cose giuste. A volte si sbaglia ed è importante anche ammetterlo. Quattro, nel caso tu sia una figlia femmina, se cerchi di dimostrare un po' di carattere e quindi cerchi di essere un po' determinata nel far rispettare i tuoi limiti, ah, le donne brave non si ribellano, sono più accoglienti, accomodanti. Non è vero. Sei una persona con la tua individualità e quindi puoi benissimo far rispettare i tuoi limiti, anche se sei una figlia e non un figlio. Altra convinzione che potrebbe essere dannosissima è quella che bisogna andare d'accordo con tutti, che anzi i bisogni degli altri, soprattutto dei propri genitori, sono più importanti dei propri. Che se c'è qualche diverbio, qualche situazione in cui non si è tutti d'accordo, vuol dire che io mi comporto male. Allora, abbiamo tante pressioni, anche culturali, rispetto a tutto questo. Però è giusto ed è importante invece capire che è necessario dare dei limiti o dei confini ai nostri genitori se sono estremamente invadenti, se non riconoscono generalmente i nostri limiti, se sono arroganti, se sono comunque persone che cercano sempre di intromettersi per creare la possibilità di gestirli e quindi di non rompere o comunque di non portare rancore. E allora in questo video proveremo a dirci sette limiti importanti da mantenere con dei genitori se sono tossici. Ed è importantissimo conoscere per poi riconoscere. Avere quindi la capacità di vedere ciò che succede, riconoscere i comportamenti dei nostri genitori e sapere come comportarci di conseguenza in modo tale da avere più potere nella relazione e riuscire a gestirla in maniera più positiva. E allora diciamoci sette limiti importantissimi da far rispettare con dei genitori tossici, cioè controllanti, invadenti, manipolatori. Il primo di questi limiti è sicuramente quello rispetto alle discussioni. È bello a volte manifestare se non si è d'accordo rispetto a un argomento o rispetto a una situazione. E questo è bello poterlo fare anche con i propri genitori e che i nostri genitori lo facciano con noi. Ma non va bene che un genitore si arroghi il diritto di parlare sopra l'altra persona, al figlio, che sia offensivo, che diventi aggressivo nei modi, che lo interrompa, che imprechi, che alzi la voce, che urli. Perché a quel punto il figlio non può manifestare ciò che pensa, perché non viene ascoltato. E questo non porta a un miglioramento nella relazione, assolutamente. Numero due, ho diritto di non avere visite inaspettate. Può succedere, perché è bello che un genitore voglia andare a trovare i propri figli, che vada a casa sua se vive da solo, se vive in coppia, in famiglia. È bello che lo vada a trovare. Ma non è bello che si presenti senza aver avvisato, anche se gli è stato richiesto, che comunque abbia la capacità di presentarsi anche quando nessuno è pronto a riceverlo. Perché quando una persona vuole essere a proprio agio nella propria casa, farsi le proprie cose, e si trova una persona che o suona o addirittura ha le chiavi di riserva, per cui prova ad entrare perché non gli è stato risposto, questa è un'invadenza troppo grande. Allora a quel punto bisogna chiedere al genitore di attenersi a delle regole e bisogna farle rispettare. Si avvisa, se c'è disponibilità si va a trovare. Tre, questo è un aspetto magari un po' più difficile da cogliere, ma non è corretto che abbia una condivisione delle proprie cose eccessiva con i figli un genitore. È bello che possa raccontare i propri sentimenti, ciò che prova, ciò che pensa, ma dire anche segreti o comunque cose per cui il figlio o la figlia sono incatenati a un segreto che non devono rivelare perché sono cose troppo intime e che riguardano magari anche altre persone con le quali si ha rapporto. Non ha un senso, cioè non è un rapporto corretto con un figlio. Forse avrebbe la pena farlo con un miglior amico, chiamarlo e raccontargli queste cose, ma il figlio non è il miglior amico. E anche in questo caso forse bisogna far tornare il genitore nel suo ambito e quindi con un minimo di distanza rispetto a queste cose. Quattro, quando un genitore o i genitori usano il trattamento del silenzio, cioè il silenzio punitivo. Allora, è chiaro che è importante anche avere degli spazi, quindi prendersi anche delle pause, a volte non è necessario che ci si senta con una frequenza incredibile, perché appunto a volte si può avere anche il desiderio, il bisogno di staccarsi un po'. Ma questo è qualcosa di naturale. Nel momento in cui invece un genitore inizia a usare il silenzio punitivo, vuol dire che vuol far sentire in colpa il figlio o la figlia per aver detto o fatto qualcosa e che il non parlarle, il non comunicare, è come una forma di violenza che noi sappiamo. Ho fatto anche altri video sul trattamento del silenzio e lascio il link qua in descrizione nel video per approfondirlo. È chiaro che questa invece è una forma di abuso, è una forma di violenza e questo non è corretto che avvenga, perché è emotivamente offensivo e crudele. E su questo devo iniziare a dare dei limiti. Non voglio essere sempre disponibile dopo un silenzio enorme a chiedere scusa o comunque a farmi risentire perché tu non avevi voglia di sentirmi per punirmi. Iniziamo a mettere le cose un attimino più in chiaro. 5. C'è un limite tra essere interessati ed essere indiscreti. Ed è bello quindi che un genitore si interessi alla vita dei propri figli, che voglia sapere cosa fanno, che abbia piacere a essere informato. Ma il limite che poi sfocia nell'indiscrezione è quando comunque un genitore vuole sapere, carpire tutte le informazioni possibili sui propri figli nonostante che i figli non vogliono dare queste informazioni. Quando diventa una forma un po' morbosa, una curiosità eccessiva, un bisogno di sapere, anche a volte approvvigionandosi da altre fonti, cosa stanno facendo i propri figli, per quasi una forma più di controllo che di interesse. Allora, in questo caso, forse vale la pena iniziare a dare dei limiti oltre i quali non si può entrare. E fagli sapere che se c'è qualcosa di personale che vogliamo che loro lo sappiano, sicuramente li cerchiamo e condividiamo con loro questo nostro desiderio. Ma al contrario, invece, essere indagati da qualcuno che possa essere anche un genitore non è qualcosa che possiamo sperare di ottenere nella nostra vita. 6. È bello che un genitore possa condividere con i figli i propri stati d'animo, soprattutto se è arrabbiato, deluso perché qualcuno gli ha fatto qualcosa o perché ci sono delle difficoltà. Diverso è, invece, sfogarsi e ribaltare tutto quello che c'è di negativo nella propria vita sul figlio o sulla figlia. Che si arrivi addirittura a essere aggressivi, a prendersela con i figli perché qualcosa di storto è successo nella loro vita. Perché non devono avere l'impressione di potersi scaricare come su un sacco da box. Perché i figli possono essere anche disponibili ad aiutare un genitore, ma non per forza devono essere calpestati per farlo sfogare o farlo stare un po' meglio. Però il bisogno di proteggere il tuo benessere è tuo e personale. Quindi nel momento in cui un genitore si comporta in maniera offensiva o comunque scarica troppe delle sue tensioni, delle sue rabbie sul figlio, è il figlio che deve iniziare a dare degli alto là e iniziare a dare dei tempi diversi e chiedere del rispetto per la propria persona. Settimo ed ultimo è l'accettare il no. È bello che un genitore chieda a un figlio di fare qualcosa o per se stesso o per lui stesso. E non è bello quando un figlio dice no, quella cosa non la voglio fare o non la faccio e che il genitore continui a insistere perché lui o lei comunque compiano quel gesto, quell'azione, facciano quella cosa che gli è stata richiesta dal genitore. Perché se un genitore chiede di fare qualcosa per sé e un figlio rifiuta perché in quel momento lì non può farlo o non vuole farlo, il no vale e quindi ha il diritto di dire no, non riesco o non voglio. E se il genitore continua o peggio ancora, si dimostra offeso, arrabbiato, risentito proprio perché è stato detto un no, questo è un limite che bisogna mantenere e spiegare che comunque oltre a quello non si può andare. È stato chiesto, è stato risposto. Purtroppo però avrei avuto anche esperienza del fatto che se dai dei limiti a un genitore tossico, il genitore tossico non è che risponda proprio con grande gradimento, anzi di solito è molto arrabbiato, si offende per tutto ciò, fa fatica a stare dentro dei limiti. Ed è per questo che sono molto importanti. E i limiti più efficaci sono quelli fatti con naturalezza, senza rabbia, senza aggressività, ma con grande fermezza. Mi dispiace che tu ti arrabbi, ma è così. E quando tu avrai questa fermezza nell'affermare i tuoi limiti, probabilmente il genitore tossico lo prenderà come un attacco personale e quindi reagiranno in modo tale da o essere aggressivi o fare le vittime rispetto a questo tipo di limite, perché probabilmente tu non l'hai capito. O un'altra possibilità è che chiedano spiegazioni, ma tu fornisci delle spiegazioni che loro non accettano. E allora a quel punto loro inizieranno a dirti che non hai ragione, che queste ragioni non hanno nessun senso, che sono loro dalla parte del diritto e tu sei dalla parte del torto. E quindi, nonostante tu ti sia sforzata o sforzato tantissimo per spiegare quali sono le ragioni, semplicemente loro che faranno le respingeranno. Purtroppo però questo non dovrebbe cambiare la tua idea di porre questi limiti. E se hai altri limiti importanti da stabilire con un genitore tossico, li puoi scrivere qua sotto nei commenti e condividerli con la community. Però, nonostante ciò, è importante che tu comunque stabilisca dei limiti, indipendentemente dalla reazione che possono avere i genitori. E se ti senti un po' in colpa, perché ti sembra che dovresti sempre dire no? Come tutte quelle cose che abbiamo detto all'inizio, tutti quei condizionamenti, no? Per cui devi sempre essere il bravo figlio, la brava figlia, quella che comunque si mette sempre da parte per il bisogno del genitore e che quindi dare dei limiti potrebbe metterti in cattiva luce. Basta! Superala questa cosa, perché non ti porta a nulla di buono. Perché quando ti senti oltrepassato nei limiti che hai dato, e ti è già successo mille volte, nutri rancore per i tuoi genitori. Quindi non ti senti di volerli più bene. O scillerai sempre tra il senso di colpa, di aver fatto tutto quello che volevano, o nauseato per averlo fatto, o vergognarti di fronte alle persone alle quali raccontano che tu hai detto che non volevi più o che gli hai impedito di entrare in casa perché non ti avevano avvisato. E quindi, oltre a non arrenderti, continua a esercitare questa tua capacità di porre dei limiti. Premesso, fatto con un genitore, probabilmente sarà un esercizio utile, fatto anche con persone al di fuori della tua famiglia. Perché se questa cosa è successa per tanti anni, probabilmente ti ha reso un po' più incapace di gestire i tuoi limiti e di darli alle altre persone. Che però è un modo per non amarti profondamente. Perché chi non si dà dei limiti, chi non dà i limiti alle altre persone, non permette agli altri di essere conosciuto in profondità e quindi di essere amato in profondità. E forse, chissà, magari capita che uno si liberi dal bisogno di compiacere tutti per poter sentirsi voluto bene e stare in pace con se stesso. E questo sarebbe un grande passo evolutivo verso una vita che sentiamo più realizzata e che ci rende più felici. Se hai visto questo video fino alla fine e ti piace il modo in cui io parlo di questi argomenti, se ti piace il modo in cui gestisco questo canale, se non l'hai ancora fatto potresti iscriverti. E se vuoi dare un sostegno concreto puoi abbonarti, lascio il link qua sotto nella descrizione e con questo gesto offrirmi un caffè virtuale al mese col quale riconoscere il mio impegno nel divulgare questi argomenti. Grazie.